e bisogna andare un po' indietro negli anni per parlare dei miei inizi per quanto riguarda questa passione forte rivolta alle attività motorie in generale è un percorso un po' strano perché non era previsto che io facessi le scienze motorie se la comunicazione è così importante quanti esami di comunicazione si danno a scienze motorie? aprire la testa su differenti tematiche e pormi tantissime domande perché il bello di fare ricerca scientifica è che in realtà i dubbi aumentano, non si colmano essere un motivatore vuol dire principalmente essere un esempio cioè io credo in quello che faccio, io credo in quello che dico perché lo faccio io io non so, la vita bisogna sapersela accarezzare, coccolarla, bisogna amarsi prima di amare gli altri benvenuti a un'altra grandissima puntata del talk scienze motorie.com oggi in compagnia di Francesco Corsi, un grande ospite, ciao Francesco benvenuto ciao Giamo, grazie, grazie veramente per l'invito è un piacere averti qua anche per me Francesco è un dottore in scienze motorie, un naturopata specializzato in riequilibrio posturale con un percorso molto particolare, affascinante si occupa di filosofia e discipline orientali, di arti marziali sono veramente molto curioso di parlare con te la prima domanda che ti faccio, condividendo un ottimo te, è come è iniziato il tuo percorso? allora il mio percorso nasce diciamo un po' come tutti nel senso da appassionato di sport ho iniziato sin da bambino a coltivare diciamo l'esigenza di muovermi mi è sempre piaciuto dal calcio, ho fatto tanti anni nel calcio poi ho vissuto un paio d'anni di esperienza a livello amatoriale nel ciclismo per poi arrivare attraverso un percorso particolare diciamo ad approcciarmi alle arti marziali ora sono circa un sette anni che pratico queste discipline qua e per cui diciamo c'è sicuramente stata a livello di base un cambiamento, una trasformazione dove sostanzialmente dallo sport e comunque sia dal fare un lavoro diciamo esterno quindi più muscolare, più rivolto all'aspetto competitivo, agonistico si è passati a un lavoro più interno, riflessivo diciamo di conoscenza di sé ecco per cui il percorso è stato questo direi che le scienze motorie è stata un po' la naturale conseguenza di quella che era la mia predisposizione da bambino ho capito abbiamo detto hai fatto anche un percorso di naturopatia poi successivamente diciamo che esatto, approcciandomi alle arti marziali che l'aspetto cinese soprattutto quindi il kung fu e nella fattispecie diciamo poi il tai chi e il qi kun chiaramente questi aspetti si basano comunque sulla medicina cinese dove appunto il concetto di movimento, medicina, filosofia è tutto un pacchetto integrato e per cui c'è stata anche lì un po' una naturale conseguenza di voler approfondire questo aspetto avevo conosciuto nel panorama delle arti marziali un maestro col quale collaboro che è il dottor Mario Picconi che è un medico agopuntore che appunto ha questa scuola al suo centro a Firenze si chiama Sinergie per cui ho iniziato a studiare lì medicina cinese poi mi sono interessato anche un po' a tutto quello che poteva riguardare il concetto di stile di vita naturale che in realtà come dire è un qualcosa di... che oggi va un po' di moda però in realtà non è semplice nel senso che educa la persona al fatto che il primo protagonista riguardo la salvaguarda della salute sei tu stesso noi tendenzialmente a livello culturale siamo abituati a delegare un po' qualunque cosa per cui aspetto di ammalarmi aspetto di stare male poi ci pensa il medico il terapista di turno il che ok, d'accordo il terapista, il medico l'operatore della salute ha il suo ruolo nel cercare di facilitarti delle cose di risolverti dei problemi però diciamo che sono un po' figlio del detto aiutati che Dio ti aiuta quindi insomma cerca di avere uno stile di vita sano fai del movimento poi chiaramente bisognerebbe sviscerare che cosa vuol dire movimento che può voler dire tutto e niente cerca di mangiare in un certo modo cerca di avere un atteggiamento mentale di un certo tipo e questo è quello poi che cerco di trasferire alle persone ovviamente facendolo su me stesso perché poi insomma bisogna predicare bene ma anche razzolare bene assolutamente predica ciò che pratica esatto esatto e mi piace molto la riflessione che la maggior parte delle persone delegano anche la salute quando invece qualcosa che non puoi delegare è una medicalizzazione che secondo me oltretutto è molto negativa e da questo tendenzialmente veniamo educati anche attraverso banalmente dei messaggi pubblicitari dei messaggi visivi televisivi invece non c'è Dr. House che ci aiuterà nel momento in cui è troppo tardi ed è per questo che noi soprattutto nelle scienze motorie dobbiamo veicolare un messaggio dove la prevenzione è una parte fondamentale in Italia si fa moltissima diagnosi precoce ma pochissima prevenzione ed è questo motivo per cui poi ci ammaliamo e c'è un sistema sanitario nazionale estremamente sovraccarico quindi ottima riflessione la delega non funziona per quanto riguarda la salute esatto c'è questa cosa degli screening che facciamo a livello sanitario di massa però facendo gli screening si parte già dal presupposto che comunque la persona si ammali allora comunque faccio lo screening ed è bene che ovviamente ci siano affinché prenda in tempo la malattia però non parto dall'idea ancora a monte di dire arrivo ancora prima e tant'è vero nella cultura cinese c'era un po' c'è un po' il detto di curare il malato prima che si ammali cioè nel senso c'è proprio questa questa fondamentale ricerca di di attenzione alla salute perché e poi sembra la solita frase fatta però la salute è tutto e senza la salute non fai niente il problema è che ce ne rendiamo conto solamente quando ci ammaliamo e allora poi gli diamo il peso reale a queste parole però sì è una cultura che sicuramente non siamo educati sin da bambini a prenderci cura della propria salute e abbiamo l'idea che c'è il dottore in camice bianco o il terapista appena sto male vado come dicevi te spesso si arriva tardi o comunque si arriva che la condizione è critica e se si può fare si cerca di far star meglio che si può la persona però ecco chi ha l'opportunità insomma di cogliere queste parole ok cercare sicuramente bisogna cominciare e sin da giovani finché diciamo il corpo ha le possibilità di apprendere certe cose perché poi come si va avanti ci si incancrenisce sempre di più in certi schemi e cambiare a quel punto diventa praticamente impossibile per cui ecco la prevenzione è veramente è cura allo stesso tempo è cura di sé è amor proprio chiamiamolo crescita crescita sicuro perché comunque sia anche a livello personale quando ti ritrovi a praticare quotidianamente discipline come il tai chi il qikun così e vedi che veramente nel tuo corpo iniziano a muoversi il corpo inizia a muoversi da solo ci sono delle cose molto particolari attraverso la meditazione inizi con la mente a penetrare gli strati del corpo dette così sembrano cose strane in realtà è come dire il portare in profondità l'attenzione sul proprio corpo e ci si rende conto di quante tensioni ci siano internamente e ti rendi conto che mente e corpo sono come dire a volte si dice due facce della stessa medaglia a me piace dire un po' sono invece la stessa medaglia sono la stessa cosa però su livelli diversi cioè abbiamo la mente che è pensieri emozioni posso pensare di fare una capriola mortale e la faccio nella mia mente poi chiaramente il corpo non la sa fare non la può fare perché è più pesante è più materico ha bisogno di tempo per capire una cosa la deve sviscerare però a livello tipo di mente e di corpo ci rendiamo conto anche tipo quando ci arrabbiamo o quando soffriamo se portiamo l'attenzione sul corpo abbiamo delle reazioni e viceversa quando soffriamo nel corpo voi per un trauma voi per un qualche cosa soffriamo a livello mentale per cui qui c'è poi esatto è un discorso filosofico storico che prima diciamo a livello religioso poi anche a livello cartesiano diciamo c'è stata questa distinzione fra mente e corpo per cui abbiamo sempre visto il corpo poi come un elemento puramente materiale fatto di ossa muscoli vasi sanguigni eccetera per cui diciamo prendo si ammala un pezzo lo prendo lo cambio insomma come le ruote di una macchina eccetera senza tralasciare tutto l'aspetto emozioni pensiero di tutta l'influenza che hanno sul corpo e oggi stiamo cercando si sta recuperando un po' questa cosa c'è più attenzione c'è anche a livello di 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 studi proprio c'è anche una disciplina che si chiama la PNE la psico-neuro-endocrino-immunologia che cerca comunque di mettere insieme in relazione questi network no? mente-corpo e vedere come tutto entra in relazione fra fra se e se e questo chiaramente apre le porte a prospettive completamente diverse che si torna al concetto di prima responsabilizzano l'individuo cioè tu diventi padrone di se stesso tu diventi padrone della tua salute sicuramente questo è un qualcosa un po' scioccante perché non siamo abituati un po' come a volte dici no? siamo in un cambiamento storico di tante cose ecco siamo anche in un cambiamento storico riguardo il concetto di salute cioè la delega non funziona riparti da te ricomincia da te inizia a respirare inizia a risentire le piccole cose poi quando a volte nella pratica di queste discipline no? che poi fondamentalmente si parla di meditazione che uno pensa a chissà che cosa no? o pensa che comunque sia una tecnica ti metti lì gambe incrociate in realtà è come dire la ricerca di uno stato mentale che tu puoi trovare in qualunque campo cioè ad esempio nel corpo ti muovi ascolta i tuoi passi ascolta il respiro coordinato al movimento ascolta la contrazione e decontrazione muscolare cioè la meditazione è questo cioè è uno stato della mente dove sostanzialmente focalizzi l'attenzione l'ascolto su una parte piuttosto che su un'altra però il processo è sempre lo stesso è l'ascolto è l'osservazione ed è quel quell'elemento chiave che ti permette di se non altro prendere coscienza di che cosa stai vivendo delle tue situazioni questo poi ha un enorme impatto chiaramente nella tua vita perché se non sai bene quello che sta succedendo o del perché stai soffrendo diventi diventa veramente un casino ecco per cui poi la meditazione sostanzialmente è questo è riportare l'attenzione in quelle cose che ormai diamo per scontato perché semplicemente le facciamo cioè respirare respiro invece no riporta l'attenzione al respiro e vedrai quanti problemi hai nel coordinarlo anche con il movimento riporta l'attenzione a camminare in un certo modo e vedrai che ti rendi conto che non sei così equilibrato come credi riporta l'attenzione ad assaporare ciò che mangi e valuta invece no mangiamo sempre di fretta magari proiettati con il pensiero a fare un'altra cosa o guardi la televisione e tutto questo crea come dire una sorta di confusione sei sempre dissociato dissociato bravo proiettato fuori e la nostra società sostanzialmente è questa è dissociata è altamente poi schizofrenica nel senso sei proiettato costantemente fuori di te e non hai più come dire il polso della situazione cioè non sai più perché fai delle cose perdi anche il significato della tua storia cioè diventa veramente e da qui sì poi possono nascere sicuramente problematiche di tipo relazionale sociale comportamentale mentale ma non perché sei pazzo ma semplicemente perché sei dissociato allora riprendi ecco che il corpo questa è veramente la potenza secondo me straordinaria il corpo diventa l'elemento il mezzo attraverso il quale tu puoi riappropriarti di una coscienza di te ecco prima hai detto il corpo non è solo un concetto esterno a volte si pensa al corpo come qualcosa di estetico si pensa troppo vedi anche sui social network no che ne so dare in maniera troppo esasperata l'attenzione all'integratore x piuttosto che all'integratore y come se fossero quelli il miracolo di turno e si pensa poco ad allenarsi no però ecco il concetto che volevo dire era proprio questo cioè il corpo non solo come mezzo o meglio come fine perché a questo punto viene vissuto come un fine cioè la cultura del bello dell'estetismo che non è una cosa da demonizzare è da demonizzare quando diventa un'ossessione ovviamente poi ti rendi conto tipo praticando le arti marziali comunque praticando una disciplina che ha una sua valenza formativa che in realtà è chiaro che ti alleni e ti muovi però come dire poi il benessere fisico quello che può essere la costruzione muscolare eccetera diventa una conseguenza dell'allenamento però quello che è importante è il percorso cioè è il percorso e quello che l'allenamento l'ascolto di te ti può dare e questo è veramente quello che fa la differenza fra diciamo una disciplina o meglio un'attività esterna o un'attività interna anche nel mondo delle arti marziali esiste questa distinzione esterno-interno però in realtà c'è sempre una profonda attenzione sul corpo lì l'esterno e l'interno non ha più che fare con come dire attività che mirano di più al potenziamento muscolare ad esprimere una forza mi vengono in mente tipo gli shaolin o tipo stili come il chan chuen o il nan chuen comunque stili forti dove si esprime una muscolarità a stili interni invece come il tai chi come il pa kuah lo shinghi il qi kun che rientra nel patrimonio comunque anche medico della cultura medica cinese perché queste discipline qui vengono vissute anche vengono prescritte negli ospedali cinesi e per cui c'è questa ecco distinzione dove però di fondo c'è sempre l'utilizzo del corpo come uno strumento per crescere crescere su tutti i livelli cioè migliorare e crescere a livello fisico migliorare e crescere a livello mentale emozionale relazionale quindi spirituale perché poi diventa un lavoro che fai su te stesso dove impari o perlomeno inizi ad assumere un atteggiamento riflessivo che ti porta ti può portare nel tempo a comprendere tutta una serie di cose che sostanzialmente ti portano a stare un po' meglio con te stesso ecco sono infatti molto interessato al fatto che quando parlavi prima di un approccio orientale occidentale alla salute c'è una grande differenza nella medicina cinese tradizionale cinese la medicina che conosciamo noi e come mai questa grande differenza questa completa diversa differente visione questo punto di vista completamente differente eppure cioè un'intera comunità un'intera popolazione vive con quel tipo di medicina e quindi si cura con quel tipo di medicina e noi invece abbiamo una cultura che ci porta sempre anche lì a delegare a un farmaco a una persona a un medico il nostro benessere la nostra salute nella medicina tradizionale cinese invece c'è un'autoguarigione del corpo esatto con la naturopatia tu sei arrivato a toccare delle sfere che ti permettono di capire questa grande differenza questo tipo di approccio così distante sì c'è c'è sicuramente è evidente stando dentro il sistema è sicuramente la la grande differenza di cui tu parli ha sicuramente radici come dire filosofiche e quindi proprio di pensiero cioè nella filosofia orientale non c'è mai stata la distinzione fra mente e corpo e non c'è mai stata l'idea di un uomo inteso come essere umano separato dalla natura per cui questa è anche l'interessante visione per cui secondo la medicina cinese c'è tutto come dire un ciclo di corrispondenza anche con le stagioni cioè loro hanno veramente creato un sistema filosofico basato sull'osservazione della natura e siccome non si non si sono mai visti filosoficamente parlando distaccati da essa hanno concepito ciò che avviene in natura nell'universo e ciò che avviene dentro di noi e questo poi è il concetto che loro hanno definito microcosmo cioè l'essere umano e il macrocosmo cioè la natura l'universo eccetera per cui attraverso un'attenta osservazione di tutto quello che può essere il ciclo delle stagioni il giorno e la notte tutte queste cose qua loro l'hanno riproiettato dentro dentro il corpo umano e questo diciamo ha creato le premesse per creare una medicina naturale dove naturale cioè non vuol dire anche lì come dire prendere la pillola naturale l'erbetta ma è proprio un atteggiamento mentale cioè dove parti da te dal movimento fatto in un certo modo che deve essere rivolto a sciogliere le articolazioni ora mi viene in mente parlando un sacco di link per cui ad esempio ci sono anche negli esercizi di Chikun il concetto molto carino anche da fare dei cinque animali per dire o anche osservando le movenze degli animali tipo la tigre l'orso il cervo la scimmia queste cose si replicano perché attraverso certi movimenti si lavora su certi anche organi interni e si lavora anche sull'aspetto emozionale e sullo sblocco dell'articolazione loro hanno anche una visione molto profonda sul concetto di archetipo cioè ad esempio questi meccanismi antichi un po' al di fuori dello spazio e del tempo ad esempio il concetto per dire con gli animali se uno li fa con l'ottica di essere l'animale si sviluppano a livello emozionale certi meccanismi a livello del tai chi tipo la sfera il cerchio che poi è il simbolo dello yin e dello yang che rappresenta diciamo quindi il concetto dell'equilibrio e dell'armonia anche il concetto della sfera il muoversi nel tempo via via che passano i mesi eccetera ricercando la circolarità del movimento ricercando la circolarità delle articolazioni si studiano proprio delle posture perché la sfera come dire è un po' il simbolo geometrico dell'equilibrio qualunque posizione essa sia è sempre in equilibrio può rotolare ma come dire mantiene la sua armonia non è spigolosa come potrebbe essere un quadrato o un rettangolo per cui c'è anche questa idea e si sviluppa ecco la cosa interessante di nuovo corpo-mente muovendosi in una maniera circolare si sviluppa anche un pensiero circolare cioè si smette come dire il prendere posizione il bloccarsi su degli schemi che da un punto di vista simbolico sono tutti degli spigoli dei blocchi ecco lì che si ritorna a quel concetto che attraverso il lavoro circolare sul corpo si crea una circolarità nella mente questo proprio per un discorso di indissolubilità fra corpo e mente questo noi a livello occidentale l'abbiamo perso perché l'abbiamo scisse queste cose sia a livello religioso per cui abbiamo lo spirito e il corpo che sono due entità separate e questo lo vediamo anche ad esempio storicamente parlando chi cura lo spirito magari rilascia il corpo chi cura troppo il corpo è povero nello spirito perché abbiamo dissociato questa cosa qua la cosa interessante invece di queste culture che hanno integrato in realtà diciamo che non hanno mai messo mano esatto non hanno mai modificato bravo e qui si entra in un altro concetto filosofico che è del taoismo il vuvei cioè il non agire la non azione che non è una cosa che uno pensa vabbè non faccio nulla è proprio una cosa come questa cioè non mettere mano ma invece armonizzarsi con ciò che esiste è una cosa difficile perché vuol dire ferma la mente non la mettere oltre ciò che c'è e questo ovviamente è sempre un esercizio mentale che va fatto perché comunque si tende anche umanamente chiaramente a prendere delle posizioni a trovare delle piccole certezze però la cosa interessante qui si entra in quest'ottica della consapevolezza che se lo sai come dire non cadi dal pero ma sai quello che sta succedendo sai come magari porre il rimedio e quindi questa è la cosa interessante anzi proprio per questo discorso di corpo in mente mi viene in mente c'è una leggenda che dice che dall'India che poi diciamo un po' la cultura più antica ecco il monaco Bodhidharma arrivò al tempio Shaolin e vide un po' questi monaci sempre in meditazione e sostanzialmente il concetto che un po' gli rivelò è il fatto che ragazzi siete sempre a meditare siete sempre a coltivare la mente lo spirito ma nel corpo siete ridotti male nel senso e allora portò come dire dall'India la concezione di dallo yoga comunque da degli esercizi molto antichi di certi di certi esercizi per coltivare anche il corpo e da lì nacquero poi gli esercizi anche di di Chikun cioè degli esercizi che come dire sono sempre altamente hanno un alto impatto meditativo ma attraverso il lavoro col corpo ecco che allora si recrea quella congiunzione corpo-mente che poi da lì non si è mai non si è mai interrotta però ecco quello che ha fatto la differenza è stato proprio è stato proprio il pensiero quando uno pensa che la filosofia o il pensiero siano cose astratte e dissociate dalla realtà sono dissociate dalla realtà se le prendi come una cosa intellettuale però poi ti rendi conto che tutto quello che abbiamo creato si basa su un pensiero e per cui se tu oggi hai un modello di medicina o di salute è perché c'è stato un pensiero a un monte che l'ha creato così e così dall'altra parte se c'è un pensiero di salute in quel modo è perché c'è un pensiero che l'ha coltivato in quel modo e sostanzialmente questa è la grande differenza dove tendenzialmente la mente occidentale ha portato a cercare di modificare di creare come dire di modificare di separarsi dalla natura anche prevaricandola di l'anno è un punto di vista interessante è un punto di vista molto interessante essendo così distante da quello che conosciamo e secondo me il tuo contributo qua infatti può essere bellissimo per questo per permettere di riflettere a chi oggi è magari estremamente collegato all'aspetto puramente corporeo ha una riconnessione invece con la parte psicologica perché la PNEI la psico-neuro-endocrino-immunologia oltretutto riporta anche studi scientifici se siamo così attenti a questo e anche se in realtà potremmo anche fare degli esperimenti su noi stessi e scoprire e certificare che esistono queste connessioni senza bisogno che qualcuno anche perché sono cose che scientificamente fai male a dimostrare è come quando ti dicono ma che cos'è il ci fai male a dimostrarlo è vero è come sarebbe dire che cos'è la fede per le persone esiste la fede questi concetti filosofici poi possono essere riportati in molte forme come se tu chiedi a una persona che ha fede se è più reale Dio o un albero è ovvio che la persona che ha fede ti dirà che è più reale Dio è una constatazione che difficilmente troverà una risposta scientifica oppure la troverà ovunque sulla base della soggettività dal punto di vista da quale si guarda ed è per questo che ripeto il tuo contributo può essere molto molto prezioso nel ricollegare le scienze motorie a qualcosa che ha a che fare assolutamente con la parte psichica della persona somatopsichica come dicevamo prima in questa diversa visione e andare a incrementare il potenziale l'espressione del potenziale della persona tenendo fortemente in considerazione questo tu nel tuo lavoro quotidiano come lo applichi con le persone ma diciamo che allora c'è sicuramente di base per le persone che lavorano con queste discipline una sensibilità di base ecco alla ricerca comunque di un'armonia a dare più l'attenzione alle emozioni a questi aspetti qua per cui tendenzialmente diciamo che in termini puramente naturali c'è già una sorta di selezione naturale no fra chi si vuole aprire a una certa forma di conoscenza di di nuova percezione di sé e si applica semplicemente lavorando sul corpo maturando delle sensazioni lavorando su dei principi perché i principi possono essere anche dire come dire compresi a livello intellettuale sul corpo anche abbastanza in fretta non è che ci servono anni e anni il principio lo si capisce poi quello che serve chiaramente è la pratica ecco lì è come dire la difficoltà risiede nel far percepire nel far uscire le persone dallo schema del tipo della palestra del tipo vado in palestra due tre volte la settimana no questo schema qua in realtà queste sono discipline proprio perché si riconnettono con la tua essenza o comunque utilizzi queste discipline come mezzo per conoscerti è chiaro che la conoscenza è quotidiana nel senso comunque sia devi creare non voglio dire necessariamente un rito però è un qualcosa che non voglio neanche dire deve perché è un obbligo è un imperativo però la pratica viene da dirlo deve in un qualche modo diventare parte di te non ti devi non devi più arrivare a percepirla come una cosa distaccata quando ti entra dentro diventa una consuetudine alzarsi la mattina farlo lì c'è il cambio la svolta è una cosa che va ricercata a livello personale chiaramente cioè nel senso tu puoi avere anche i migliori maestri insegnanti del mondo però c'è sempre quello scalino che devi fare te c'è poco da fare un po' come si diceva prima col medico il terapista sì ti aiutano però se nella tua vita è una vita un po' dissoluta è chiaro che ti devi preparare alla malattia o comunque eccetera per cui diciamo il lavoro sostanzialmente è quello di passare l'importanza che chiaramente queste discipline ti possono portare educare la persona a sentire a percepire che possono migliorare il proprio stato di salute senza il bisogno di senza il bisogno del terapista cioè non è il passare questa sembra una cosa strana no? un po' la salute fai da te che è un po' pericolosa no? perché un po' la gente va su internet e la pillola magica cerco faccio però in realtà se c'è come dire se frequenti un percorso di studio inizi a sviluppare delle sensazioni inizi a percepire dei cambiamenti che avvengono e dici cavolo però è vero che posso autogestire il mio stato di salute poi nel momento in cui magari mi ammalo uno magari mi ammalo meno secondo magari se mi ammalo guarisco più velocemente terzo se ho bisogno del medico del terapista conosco talmente bene il mio corpo che lo facilito anche nel compito perché a volte io ho un fratello medico no? a volte ci sono dei casi veramente mi racconta dove le persone hanno veramente una dispercezione corporea incredibile cioè non non sanno neanche tipo sentire se gli fa male la pancia o la schiena siamo a livelli ovviamente come dire proprio sbilanciati no? disequilibrati però è chiaro che una persona che impara a conoscere e sentire il proprio corpo ha più possibilità di descrivere nel dettaglio in maniera equilibrata e precisa quello che sente i momenti magari in cui certi squilibri si manifestano allora è chiaro che anche il terapista e il medico sono facilitati nel compito di decifrare il messaggio di cui si fa portatore il paziente o comunque la persona quindi è un qualcosa che è importante da più punti di vista a seconda di chi lo vede e sicuramente anche il terapista e il medico che praticano queste discipline qui hanno comunque una marcia in più perché studiando il proprio corpo e studiando le relazioni che ci possono essere fra corpo e mente hanno una possibilità in più di conoscere i meccanismi le sensazioni le percezioni spesso ci si blocca ecco io non mi reputo un tecnicista mi reputo sicuramente un grande esploratore del movimento e del corpo e quindi mi baso molto sulle sensazioni e le percezioni perché spesso si dice vabbè ma una sensazione invece le percezioni e le sensazioni se vissute possono dire veramente tanto e fare la differenza fra invece il bloccarsi magari in uno schema tecnico che poi lo schema certo ti serve perché ti dà quella classica linea guida che però come dire la mappa non è il territorio questa è una frase classica che si dice per cui le sensazioni e le percezioni sono importanti e se tu le alleni chiaramente hai un qualcosa in più hai un qualcosa in più senza furi di dubbio sia da paziente che da terapista senza dimenticarci che il terapista può essere a sua volta paziente certo quindi il percorso che quindi tu hai fatto e che suggeriresti a chi vuole avvicinarsi a questo tipo di discipline quali sono secondo te ma sicuramente allora di togliere i pregiudizi sono essenzialmente dei pregiudizi classiche che vengono un po' dal mondo anche della palestra ma vabbè ci sono delle persone che ok non si affacceranno mai a certi mondi però tipo pensare che sia un'attività d'anziano questo è veramente una cosa non ha niente a che vedere perché magari vedi una persona che si muove piano che fa certi movimenti particolari dove in realtà la lentezza non è un fine ovviamente ma è un mezzo perché sono talmente tanti i punti che il praticante deve tenere sott'occhio la coordinazione il respiro il guidare l'attenzione l'equilibrio c'è un'infinità di parametri che se tu vai veloce li perdi non ce la fai allora la lentezza ti serve per percepire quel mondo di sensazioni che abbiamo detto di percezioni quindi il primo il primo pregiudizio da lasciare è il fatto che siano discipline da anziani non è assolutamente vero io questo ne sono la prova perché l'ho iniziata a praticare a vent'anni insomma non è non è questo la altri pregiudizi potrebbero essere non non sono forte non queste discipline non mi fanno diventare forti ora è chiaro che qui si rientra un po' in quella concezione di barriere mentali perché anche chi pratica le arti marziali a volte le pratica in maniera erronea allora c'è l'idea di devo diventare più forte c'è sempre l'idea che nascondono delle insicurezze delle paure in realtà ecco l'altro pregiudizio è tu devi pratica senza aspettative pratica con l'idea di ricercare qualcosa di intanto stare meglio tanta pazienza perché non si impara dall'oggi al domani ci si frustra abbastanza facilmente perché chiaramente all'inizio sono tanti parametri da controllare e all'inizio ti rendi conto che un principiante non sa coordinare nella destra con la sinistra per cui già però ecco ecco questa è un'altra cosa ora che mi viene importante mettiti nell'ottica di di sbagliare cioè ma non e di vivere l'errore come una condizione indispensabile per migliorare questa poi è una condizione che nel patrimonio delle scienze motore della psicomotoricità cioè lo studiamo cioè il corpo che impara per tentativi ed errori e qui è uguale cioè è chiaro che ti ritrovi a fare delle cose che non ha mai fatto per cui già parti dal fatto che non le hai mai fatte è normale che sbagli e lì poi piano piano impari inizierai a coordinare il corpo e mano mano che coordini il corpo allineerai la struttura una volta che allinei il corpo la struttura e ti inizia a muovere in maniera armonica ci butti dentro il respiro e diventa tutto un lavoro dove piano piano crei una memoria una memoria che non è solo motoria ma potremmo dire esistenziale a tutto tondo quindi diciamo questi sono i pregiudizi più grandi non pensare che sia una cosa ad anziani non proiettarti nel futuro con l'idea di devo diventare forte o devo diventare non so che cosa ecco la difficoltà è questa del vivere poi il momento presente cioè prendi il percorso non è facile non è facile perché mentalmente non siamo portati a vivere così e me ne rendo conto siamo si torna col concetto di essere dissociati va presa come va presa come uno studio che ti arricchisce va presa come uno studio che ti arricchisce e dove ti arriveranno gli obiettivi perché poi nel momento in cui tu diventi più percettivo più ricettivo più equilibrato a livello corporeo e mentale migliorerai anche le tue capacità imprenditoriali manageriali di qualunque tipo per cui ecco questo è sicuramente è chiaro che la persona che come dire vede l'aspetto puramente esterno difficilmente ci arriverà ma a quel punto come dire ecco perché prima parlavo di selezione naturale perché è chiaro che sono delle realtà che richiedono una certa sensibilità o comunque richiedono di base un'apertura mentale da parte della persona che le consentono di affacciarsi a un mondo nuovo e di permettersi di imparare cose nuove e di arricchire la propria esistenza quando l'allievo è pronto il maestro si manifesta eh sì è sempre così è sempre così tant'è vero che io ho iniziato poi a studiare le arti marciali per cui la storia che ti dicevo sono arrivati dei maestri proprio in virtù di una mia esperienza dove da sportivo ricercavo delle sensazioni o comunque ero cresciuto nell'approvazione degli altri perché è un po' poi vabbè è sempre soggettivo e percettivo nel senso due persone possono vivere la stessa esperienza però uno la percepisce in un modo e uno la percepisce in un altro io sono cresciuto con la percezione di gioco bene a calcio sono bravo sento gli altri che mi dicono sei bravo cioè qui e là nel momento in cui sono cadute certi certi schemi ecco gli schemi e chiaramente mi sono sentito messo fuori posto cioè ho iniziato a pensare le classi poi tra l'altro in un'età dell'adolescenza dove ci sono già dei cambiamenti in atto per cui è stata un po' tragica la cosa a pensare non sono più quello di prima queste frasi qua e ho ricercato queste e ho iniziato a infortunarmi è stato molto curioso poi questa ovviamente non ha alcuna valenza scientifica come si diceva ma sono quelle come dire intuizioni percezioni sensazioni che bastano a te stesso ecco l'importante è quello e ho iniziato a infortunarmi gli infortuni che si sono ed è stato per un diverso tempo per un 4-5 anni ho avuto diversi problemi a una spalla eccetera mi hanno permesso una cosa al di là della sofferenza la sofferenza è stata quella chiave di volta che mi ha permesso di entrare in quell'ascolto e in quell'osservazione che dicevamo ora io si parlava anche prima dell'intervista ho avuto sempre inconsapevolmente senza saperla questa predisposizione all'ascolto del corpo cioè per dire anche ora sto parlando con me ma una parte della mia testa è sempre in ascolto sul corpo ed è una cosa ormai non ci posso fare niente il braccio lo sento che appoggia sul bracciolo il sedere sulla sedia è un processo di ascolto che c'è di base questo mi ha permesso di iniziare a farmi delle domande molto semplici cos'è che ti fa soffrire qual è il problema cioè iniziare a creare e lì scopri il potere della domanda che poi nella PNL c'è queste cose qua anche fino ad arrivare a un'esperienza mia di massimo raccoglimento dove sostanzialmente sono un po' morto psicologicamente all'esperienza di voler ritornare come prima ecco lì ho avuto chiaramente una crisi esistenziale profondissima però senza saperla avevo vissuto un'esperienza profondamente importante cioè avevo troncato col passato poi è stato molto interessante lì trovai un po' questo librettino un po' che ti avevo detto di questo gesuita un po' casualmente io poi al caso non ci credo non sono uno scaramantico ritengo che cornetti vari a destra e sinistra un po' sono tutti forme di anche lì delega delle proprie responsabilità e per cui nulla in questo e io non sono mai stato un lettore però sono sempre stato un lettore del mio corpo e nulla in questo libro ho trovato sostanzialmente mi hai detto sì Francesco hai vissuto queste cose qua ah che figo interessante e allora da lì è nata poi la risposta di trovare una come dire una chiave motoria cioè il movimento è sempre la base di dire qual è quella forma di movimento che mi coniuga insieme corpo e mente ascolto meditazione ed era l'arte marziale già avevo poi un amico che le praticava per cui mi è stato anche facile ritornare alla mente quelle cose là ed è iniziata così come esperienza già sapevo cosa volevo fare l'arte marziale era il canale migliore per me per poter coltivare quella cosa lì poi in realtà come ho sempre fatto senza saperlo prima la puoi coltivare ovunque la puoi coltivare mentre cammini mentre corri mentre ascolti il respiro insomma in realtà poi quello che devi fare ci sono anche dei tipi di meditazioni sensoriali dove cammini nel bosco e alleni un po' tutti i canali di ascolto tipo cammini nel bosco ascolta i passi e quindi alleni il canale cinestesico poi ascolta i suoni della natura e sensibilizzi il canale sensoriale osserva i colori e sensibilizzi il canale visivo sono tutte forme di meditazione in realtà per cui c'è anche lì da da staccarsi dallo schema che la meditazione sia una cosa schematizzata impacchettata precostituita che per farla bene devi andare per forza in India in realtà la cosa sbalorditiva è che non hai bisogno di niente fondamentalmente hai solo bisogno del tuo corpo il sistema reticolare che ti permette di concentrarti su delle cose ed escludere tutto il resto nel nostro cervello a volte può essere anche dannoso perché non ci permette di vedere tutto il resto perché così funziona la nostra mente ha questo sistema che se ti chiedo di osservare un colore in particolare tu riesci ad identificarlo e individuarlo però in quel momento stai ovviamente mancando tante altre cose ed è per questo che ripeto la tua presenza qua può riportare l'attenzione di chi si occupa del movimento come analisi corporea sul fatto che in quel corpo c'è una mente c'è un sistema nervoso che si agisce con stimolo elettrico per dare per creare un'azione muscolare ma anche per creare un pensiero e anche al contrario il movimento crea il pensiero e è tutto unito altrimenti questa visione olistica di cui le scienze motorie si parla rimane è pura teoria invece è proprio pratica e chi non se ne rende conto non può essere un ottimo professionista questa è la verità perché chi io ho conosciuto qua è un grandissimo grandissima opportunità per parlare con tanti professionisti di grande livello e tutti prima o poi arrivano al punto di doversi confrontare perché quando arrivi a quel grado di consapevolezza vuol dire che hai capito che l'essere umano deve contemplare l'aspetto psicologico mentale ok non soltanto cerebrale da un punto di vista ripeto di stimolo elettrico ma proprio come mente e imparare a conoscersi a conoscere perché poi questa tua consapevolezza che oggi hai ti permette anche immagino di capire meglio le persone che hai di fronte certo e il loro grado di il loro stile di vita quindi il loro modo di interagire con te se possono riuscire a capire ciò che stai dicendo o no eh sì le loro difficoltà perché senza ricordarti magari sono state le tue prima esatto ho già fatto quel percorso esatto quindi so dove ti trovi sì è un percorso di crescita sì sì è un percorso di crescita e non è collegato a una questione di età no ma di maturazione interiore sì sì di presenza esatto ora poi su questa cosa interessante che dicevi del fatto che se tu focalizzi l'attenzione su una cosa dimentichi il resto per dire nella pratica di un'altra arte marziale che porta avanti che è il sistema è un'arte marziale russa che si basa molto sulla spontaneità del movimento si riparte da dei movimenti non si studiano tecniche e forme come può essere in tutta la cultura cinese ancora di più giapponese con i kata tutte queste cose qua che hanno sempre chiaramente una loro importanza sotto certi aspetti però si rischia poi di impacchettarsi in delle tecniche in degli schemi di nuovo si studiano i movimenti spontanei che nascono da molto semplicemente uno ti arriva da dietro ti tocca la spalla lasci passare la forza cioè si inizia proprio da delle cose di base che creano quella spontaneità di movimento e si lavora anche su degli schemi proprio come la visione periferica dei principi cioè se io ad esempio prendo la tua attenzione no e tu vieni portato a guardarmi vieni risucchiato come una calamita no se invece nella gestione globale di quella che può essere una tecnica marziale o un oggetto di studio tu hai una visione periferica come ad esempio io adesso qui riesco a vedere te riesco a vedere le telecamere riesco a vedere un'idea di insieme ecco questo è un principio fondamentale nell'arte marziale perché nel momento in cui io guardo solo la telecamera guardo solo te perdo tutto il resto per cui ecco che di nuovo dal lavoro attraverso il corpo puoi creare delle forme mentali importanti importanti che ti permettono che ti permettono non tanto diventare un super uomo un super eroe no anzi è il contrario nel senso che molto spesso intraprendere certi percorsi vuol dire comunque sia guardarsi allo specchio vedere i propri limiti le proprie difficoltà quindi è un percorso dove l'umiltà poi diventa la base perché ci si rende conto che effettivamente sono infinitamente di più le cose da imparare che quelle da insegnare ci si rende conto di come sia facile ricadere negli schemi per cui sostanzialmente diventi sensibile diventi sensibile perché inizi a conoscerti la conoscenza non porta mai ad arroganza o porta sensibilità a umiltà e questo è alla base di queste filosofie poi nel massimo grado di consapevolezza la semplicità è tutto quindi più sali più stai semplificando più stai eliminando perché altrimenti più sali e più ti crei delle sovrastrutture che sono pesanti e non ti permettono di muoverti invece la semplicità è tutto è un percorso di fare spazio fare spazio bene senti chi ti cerca dove ti trova hai dei canali ma senti ho ho un sito che è francescocorsi.com che ha una valenza informativa su quello che faccio o attraverso il sito sinergiefirenze.com che è il sito che è la tua base Firenze che è la mia base dove lavoro con collaboro con il direttore del centro che è il dottor Mario Picconi dove c'è un centro multidisciplinare dove coesistono più figure professionali dall'agopuntore al fisioterapista e ad altre figure dove appunto c'è una sinergia ottimo io ti ringrazio per essere stato qua con noi grazie a te Gioamo hai portato sicuramente un flusso di energia lo definisco così oggi straordinario perché hai permesso a moltissime persone di vedere qualcosa che non era davanti agli occhi perché avvicinarsi a tutto questo concetto filosofico di disciplina orientale non è da tutti e non è per tutti sicuramente chi saprà cogliere l'opportunità sono sicuro che ti contatterà e come sono sicuro che ci saranno anche altri momenti di condivisione con te in cui potremo parlare ancora volentieri grazie mille ciao grazie ciao ciao